Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo anche che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi voglio parlarvi di un caso che mi ha colpito parecchio. La protagonista di questa storia si chiama Marlisa Wells e ha 16 anni. È il 19 gennaio del 2008 e ci troviamo a Osso, nella contea di Cobb, in Georgia. Quando il 911 riceve una chiamata da parte di un uomo che esclama piangendo. Mandate qualcuno, presto, per favore. Qualcuno è entrato in casa e la mia bambina, oddio, la mia bambina è stata pugnalata. Vi prego, venite, correte, ha 16 anni e sta morendo. Perde troppo sangue, non respira ed ora è in bagno. L'operatrice del 911 che risponde a questa chiamata capisce immediatamente la gravità della situazione. Quindi risponde, la prego, mi dica dove abita. Così posso far mandare qualcuno immediatamente. L'uomo piangendo riusce a dire il suo indirizzo, poi la chiamata si interrompe. È passata un'ora da quella terribile chiamata. Quando la detective dell'omicidi, Natalie Polk, riceve a sua volta una chiamata per un caso che non scorderà mai. L'unica cosa che le dicono al telefono è che c'è una donna per terra, coperta di sangue e priva di coscienza. Adosto, anche il sostituto procuratore distrettuale Jesse Evans viene assegnato al caso. Sulla scena del crimine i detective trovano due signori anziani. Sono loro che hanno scoperto il corpo e chiamato i soccorsi. Così la vittima viene identificata. Si chiama Marlisa Wells e viveva con quei signori anziani che erano i suoi nonni. I due sono sotto shock. Riescono solo a dire che durante quella giornata stavano discutendo con Marlisa proprio del college che avrebbe voluto frequentare. Poi sono usciti per andare ad un funerale. Quando sono rientrati hanno trovato Marlisa, in un lago di sangue, nel bagno del seminterrato. La sua età e le circostanze della sua morte colpiscono immediatamente i detective. Si tratta di un omicidio commesso in pieno giorno, in una casa situata in una comunità dove di solito cose del genere non accadono. Siamo di fronte infatti al classico luogo in cui non succede mai niente e tutti si conoscono. Household in effetti fa parte di una zona tranquilla. Il procuratore Jesse Evans chiede immediatamente ai nonni di Marlisa se per caso hanno notato segni di frazione o di furto. In casa è tutto in ordine? Non manca niente? I due sono sotto shock. Ma dicono di non aver notato nulla di sospetto. Ma è evidente che siano in difficoltà perché non riescono a fornire informazioni utili. Non riescono neanche ad entrare in casa con i detective. Stanno fuori e cercano di riprendersi. Sono terrorizzati. Chi può aver fatto questo alla loro nipotina? In casa i detective non trovano alcun segno di scasso. L'unico ingresso non chiuso a chiave è la porta scorrevole posta sul retro della casa che presenta addirittura un piccolo spiraglio. In cucina guardandosi bene attorno si rendono conto che il cassetto dei coltelli non è ben chiuso. Anzi, sembra quasi che qualcuno ci abbia frugato dentro. Poi ecco che i detective notano una macchia di sangue accanto a loro sul pavimento. Dunque si avvicinano, escono dalla cucina, percorrono un piccolo corridoio, poi notano delle scale che portano ad un seminterrato. Controllano dunque anche la ringhiera che presenta delle piccole tracce di sangue. Percorrono dunque le scale ed ecco che notano un'ennesima macchia di sangue su uno scalino. Arrivati nel seminterrato si rendono conto che quella è più una tavernetta, infatti ha anche il bagno. E le tracce di sangue conducono proprio verso quella porta, la porta del bagno del seminterrato. I detective dunque aprono la porta di quel bagno e ahimè trovano Marlisa senza vita. La quantità di sangue presente è impressionante. Quel bagno è ricoperto di sangue. La vittima presenta almeno 60 ferite da taglio identificabili. I detective però notano anche che ha subito un violento trauma alla testa. Inoltre c'è un dettaglio che colpisce ancora di più i detective. Quello è un gesto davvero feroce. Infatti dalla schiena della vittima spunta una forchetta conficcata con un tale accanimento che risulta piegata. Quello che hanno davanti i detective non è un crimine qualsiasi, no. Quello è un crimine eseguito con una violenza spietata. Accanto al corpo, dentro ad un cestino di rifiuti, trovano anche più di un coltello insanguinato. Quelle pare proprio siano le armi del delitto. Le armi? Quindi sono più di una? I detective quindi prelevano le presunte armi del delitto per fare ulteriori analisi. È chiaro che l'assassino abbia agito in preda alla rabbia. Questo è un delitto efferato con un forte coinvolgimento passionale. Il colpevole inoltre è rimasto a lungo sulla scena del crimine. I detective dunque concludono che devono iniziare a cercare una persona che nutriva nei confronti della vittima un forte risentimento per qualche avvenimento passato. Questa è la pista iniziale su cui si concentrano le autorità. Ci sono due domande essenziali ancora senza risposta per questo crimine. Chi è stato? E qual è il suo movente? All'inizio dell'indagine i detective scoprono immediatamente che Marlisa vive a casa con i nonni. I suoi genitori hanno deciso di affidarla a loro perché sono una coppia molto più severa e possono darle molte più attenzioni. Possono anche ascoltarla molto di più e infatti i genitori di Marlisa lavorano. Inoltre c'è anche il fratello minore di Marlisa, Eric, di cui si devono prendere cura. Marlisa dunque va a vivere con i suoi nonni. I nonni sono una coppia molto religiosa ed entrambi tengono moltissimo la sua istruzione. I nonni non permettono a Marlisa di frequentare dei ragazzi, non li ammettono in casa e non vogliono neanche che la ragazza parli con loro al telefono. Ovviamente non può andare alle feste, ogni tanto si concede qualche uscita con delle amiche di scuola, ma solo per poche ore. I nonni di Marlisa sono molto rigidi in effetti, ma sono anche convinti che per Marlisa questa sia la soluzione ideale. Può concentrarsi molto di più sulla scuola e in effetti dalle testimonianze emerge immediatamente che Marlisa era una ragazza davvero molto dolce. Frequentava il liceo, amava cantare, dunque faceva anche parte del coro della chiesa. Inoltre era una ragazza stimata e apprezzata da tutti i suoi compagni. Marlisa dunque a scuola non aveva alcun problema. Non era emarginata, non subiva bullismo e nessuno in particolare ce l'aveva con lei. Questa ragazza sembra una normale adolescente di 16 anni che vive la sua vita. Studia per andare bene a scuola e quindi per ottenere anche una borsa di studio. Ha molti amici, va d'accordo con tutti. E sebbene i suoi nonni siano un po' rigidi con le regole, la ragazza pare comunque accettarle. D'altro canto neanche lei è interessata a uscire così spesso, non le importa molto. Vuole anche lei ottenere buoni voti e quindi concentrarsi sul suo futuro. I detective sono perplessi. Chi può aver fatto del male a Marlisa? Pare davvero che non ci siano piste percorribili. Gli inquirenti a questo punto si convincono che ci sia qualcosa sotto. Di certo non possono fidarsi delle apparenze. A primo impatto Marlisa sembra una ragazza normalissima. Sembra che non abbia segreti. Ma se così non fosse? Se Marlisa avesse davvero fatto qualcosa in passato di cui i familiari sono all'oscuro? Per chiarire la situazione in detective indagano nel quartiere. Una comunità molto unita. E in effetti si percepisce la presenza di un certo disorientamento per questo delitto. Non sanno come reagire, molti sono turbati e continuano a far domande. Però è anche vero che a volte le persone possono assistere a cose a cui non attribuiscono importanza. Ma che per i detective possono rivelarsi significative. Quindi è possibile che qualcuno abbia visto qualcosa di sospetto? È possibile che qualcuno abbia assistito a qualcosa di fuori dell'ordinario? In realtà tutti i vicini raccontano che quella tutto sommato è una zona tranquilla. Ma soprattutto a casa dei nonni di Marlisa era tutto estremamente normale. Non hanno sentito alcun rumore ma soprattutto non hanno visto entrare in casa nessuno di sospetto. O forse sì. In effetti una testimonianza mette in luce un segreto di Marlisa. Un vicino di casa infatti ricorda di aver visto in diverse occasioni Marlisa che faceva entrare in casa qualcuno. Un ragazzo per la precisione. Se ricordate a Marlisa non è permesso avere un ragazzo. Quindi è chiaro che la ragazza tenga nascosta ai nonni una parte della sua vita. Quella sentimentale. Per i detective a questo punto arriva un'altra domanda. Chi è il ragazzo che Marlisa ha fatto entrare in casa? È il suo ragazzo? Il vicino racconta di aver notato molto spesso un'auto verde a girarsi per il quartiere. I detective dunque indagano. Cercano questa macchina verde. Ma non arrivano a nessun risultato. Iniziano dunque a concentrarsi su qualche altro indizio. Tuttavia le autorità continuano a sospettare che all'ora della morte Marlisa stesse vedendo qualcuno di nascosto. I detective infatti tra una dichiarazione di un vicino e l'altra scoprono che in realtà diversi ragazzi del quartiere frequentano la casa di Marlisa. Se fosse vero Marlisa teneva i suoi nonni totalmente all'oscuro della sua vita sociale. E a dirvi la verità è una cosa che a me onestamente non stupisce. Credo sia normale a 16 anni voler vivere un minimo di vita sociale senza pensare sempre e solo allo studio. Quindi nonostante ciò che dicono i familiari, i detective sospettano che pochi conoscano la verità sulla vittima. Devono dunque parlare con le persone a cui la ragazza confidava i suoi segreti. Se vogliono scoprire questo lato della sua vita che la sua famiglia ignora totalmente. Marlisa e Sarai Bej sono amiche dal primo anno di liceo. Ogni mattina si incontrano un po' prima davanti a scuola per far colazione assieme prima dell'inizio delle lezioni. Gli investigatori dunque sperano che Sarai possa rivelare la verità sulla vita privata della povera Marlisa. La convocano dunque in centrale, cercano di rassicurarla e poi la detective le dice So che è difficile per te ricordare ma devo farti per forza qualche domanda sulla vita privata di Marlisa. Sarai annuisce dunque la detective e chiede Aveva qualche altro conoscente o amico di cui i familiari ignoravano l'esistenza? Sarai dice queste parole alla detective In effetti mi parlava di un ragazzo, si chiama Matthew. La relazione tra i due mi è sempre parsa un po' troppo confusa. Lei ne parlava benissimo ma nessuno dei miei amici lo conosceva. Insomma era un personaggio alquanto misterioso. Allo stesso modo i nonni di Marlisa le impedivano di vedere i ragazzi quindi è più che normale che nascondesse questa storia. I detective a questo punto non devono far altro che cercare Matthew. Il ragazzo è una piccola stella del basket ed è sempre stato uno dei più popolari della scuola. Viene rispettato da tutti, amici e compagni. Ha un'ottima famiglia che gli vuole bene, vive in una bella casa, frequenta una chiesa cristiana e insomma è un ragazzo fortunato. Frequenta l'Abram Baldwin Agricultural College a Tufton che si trova circa a tre ore di distanza da Hostel. Questo significa che Matthew e Marlisa stanno vivendo più o meno una storia a distanza, insomma non si possono vedere quando vogliono. Matthew vuole laurearsi in economia ed è ormai assorbito dalla vita del campus, dallo studio, dai nuovi amici, dalle ragazze. Però Matthew è il primo ragazzo di Marlisa, è il suo primo fidanzato e in realtà è molto affezionata a lui. Quando parla di Matthew la ragazza lo descrive come un principe azzurro. Marlisa è una sognatrice quindi sogna di quando lei e Matthew sarebbero andati a vivere insieme, poi sicuramente si sarebbero sposati e avrebbero messo su famiglia. Mettendo peraltro al mondo due o tre figli. Ovviamente Marlisa crea questo tipo di pensiero perché i suoi nonni non approvano affatto le relazioni a di fuori del matrimonio. Come vi ho già detto sono molto rigidi, sono cristiani. Di conseguenza Marlisa vede Matthew come colui che le starà accanto tutta la vita. Matthew è un sospettato improbabile, sembra un ragazzo normale, non ha nessun precedente, neanche una multa e inoltre va d'accordo con tutti. Il ragazzo abita all'interno del college che sta frequentando, che si trova nella Georgia Meridionale, quindi è davvero troppo lontano per aver commesso il diritto. Quel ragazzo però costituisce un segreto che potrebbe aprire uno spiraglio sulla morte di Marlisa. Sarai, l'amica di Marlisa, racconta di averla conosciuta per la precisione il secondo giorno di liceo, quando qualcuno le lancia un sandwich in testa. Sarai non sa che fare, è imbarazzatissima. Ha lattuga e pomodori in testa e chiaramente si sente sia offesa che umiliata. Marlisa si avvicina a Sarai senza conoscerla, la consola, la porta in bagno, la aiuta a pulirsi i capelli e poi la riaccompagna in classe. Insomma, Marlisa è una ragazza davvero molto gentile. Però c'è un problema perché a quanto pare Marlisa non conosce a fondo il suo fidanzato segreto, Matthew, quello con cui avrebbe voluto mettere su famiglia, peraltro. Infatti, dopo qualche ricerca, i detective scoprono che frequentava un'altra ragazza e a quanto pare era definita da lui e dai suoi amici la sua ragazza del college. Tutti sapevano che aveva una relazione con lei. Poi c'era Marlisa, con cui aveva una relazione molto più marginale. La rivelazione offre quindi ai detective un movente. Vogliono dunque parlare con la fidanzata del college di Matthew, che di nome fa Simone. I detective fanno parecchia fatica ad ottenere informazioni. Prima cercano di tranquillizzarle e di farle capire che non c'è nulla di sbagliato nel parlare e dire la verità. La detective dunque chiede a Simone, Dai, dimmi, chi era per te Marlisa? Simone risponde secca, Una ragazza che Matthew vedeva mia insaputa. E l'ho scoperto, ho visto un messaggio sul suo cellulare e l'ho messo alle strette. Appena ha confessato, l'ho mollato. Che altro dovevo fare? Non volevo complicarmi la vita. La detective incalza. Ne sei sicura? Simone ribatte. Perché? Dovrei essere stata io? Ero arrabbiata con Matthew, ma non l'ho mai cercata quella ragazza. Per di più? Ero a lavoro il 19 gennaio. Può chiederlo a chiunque. Quindi, a quanto dice Simone, non si è affatto vendicata su Marlisa. Bensì ha scelto di chiudere la relazione con Matthew. Ovviamente i detective non prendono mai per certe le dichiarazioni di una persona. Insomma, cercano sempre delle conferme. È così che scoprono che, all'ora dell'omicidio, Simone non era assolutamente nei pressi della scena del crimine. Stava lavorando. È così che esce dalle indagini. Ma se né Simone né Matthew possono essere collegati alla scena del crimine, chi è il colpevole? In cerca di indizi, gli inquirenti a questo punto hanno un'urgenza. Esaminare il cellulare di Marlisa. I tabulati telefonici di Marlisa avrebbero fornito informazioni sull'ultima persona con cui aveva parlato. Il quale poteva essere un potenziale sospettato. Con chi ha avuto l'ultimo contatto prima di morire Marlisa? A questo punto le autorità tornano a casa di Marlisa, controllano tra i suoi effetti personali e si rendono conto che il suo telefono non si trova. I detective non hanno ragione di credere che Marlisa possa averlo perso o nascosto. Quindi è chiaro che ora debbano concentrarsi proprio su quel cellulare. In quanto per i colpevoli o per i colpevoli era così importante da averlo portato via. Quel telefono doveva per forza contenere degli indizi inequivocabili. Le autorità dunque riescono ad ottenere i tabulati telefonici di Marlisa e scoprono che un nome appare con allarmante frequenza. Ossia il nome di Matthew. Marlisa ha avuto continui contatti con Matthew non solo nel giorno in cui è stata uccisa ma anche poco prima di essere uccisa. Ci sono stati 36 contatti tra messaggi e chiamate e l'ultimo messaggio che le ha inviato ha agganciato una cella telefonica distante circa due chilometri da casa di Marlisa. È chiaro che i due avevano qualcosa di cui parlare o che dovevano discutere insieme di parecchie cose. Quello sembra un indizio importante e a questo punto per i detective arriva un altro obiettivo scoprire dove si trova Matthew. Quando lo cercano al college di Tifton non lo trovano. Cosa strana, Matthew vive lì, frequenta le lezioni, dove diavore è finito? Gli investigatori provano a cercarlo a casa dei suoi genitori che abitano poco lontano da lì ma non ottengono risposte utili. In pratica non hanno idea di dove si è finito Matthew. I detective però non si arrendono e il 23 gennaio finalmente riescono a beccarlo. È tornato al suo appartamento, al college. Matthew si dimostra molto reticente con loro. Non li vuole far entrare nel suo appartamento e chiede a gran voce un avvocato. I detective a questo punto ottengono e richiedono un mandato di perquisizione. Entrano nell'appartamento di Matthew ma non trovano nulla. Così pensano alla sua casa di famiglia. Matthew ha un alloggio al college. I detective a questo punto chiedono e ottengono un mandato di perquisizione. Entrano nell'appartamento di Matthew ma non trovano nulla. Così pensano alla sua casa di famiglia. È vero, Matthew ha un alloggio al college. Per la maggior parte del tempo vive lì. Ma la verità è che casa sua da lì non è poi così distante. Quindi diciamo che per lui tornare a casa è facile. Non deve fare un viaggio molto lungo come tanti altri studenti che magari possono rientrare solo durante le vacanze perché la famiglia ce l'hanno a dieci ore di distanza, di macchina. E se Matthew avesse nascosto le prove proprio in casa dei suoi genitori? È probabile. Gli inquirenti dunque chiedono un ennesimo mandato di perquisizione per la casa dei genitori di Matthew. E lì in effetti qualcosina trovano. La polizia raccoglie parecchi indizi ma soprattutto trovano dietro la caldaia in soffitta un paio di scarpe bianche nascoste in un fagotto. A primo impatto quelle scarpe sembrano pulite ma vengono comunque fatte analizzare. Continua però a esserci un problema. I detective non hanno nulla che colleghi Matthew all'omicidio di Marlisa. Fino a quando Eric, il fratello minore di Marlisa si presenta in centrale sostenendo di avere delle cose da raccontare. Eric sostiene che era andato a trovare Marlisa a casa di sua nonna e ha ascoltato più di una conversazione telefonica che non avrebbe dovuto ascoltare. In pratica Eric spiega che i suoi nonni non sapevano che Marlisa avesse un ragazzo ma lui sì che lo sapeva e come? E in ben due occasioni è stato testimone di due minacce fatte nei confronti di Marlisa. Quelle erano minacce telefoniche e a minacciare sua sorella era proprio Matthew il suo fidanzato. Ne è sicuro. In quanto Marlisa aveva detto non osare a minacciarmi sai? Oh certo tu prova a torcermi un solo cappello e poi vedremo come andrà a finire. Insomma è chiaro che Marlisa stesse controbattendo a delle minacce fisiche. I detective a questo punto cercano di capire che tipo di relazione ci fosse tra Matthew e Marlisa. Quindi si rivolgono nuovamente a Sarai l'amica di Marlisa. Sarai dunque spiega che la relazione tra i due non era proprio rosa e fiori litigavano molto. Lui era geloso possessivo e talvolta anche manesco. Però tutto sommato era anche tranquillo perché Marlisa non usciva non aveva vita sociale quindi diventava difficile fare grandi scenate di gelosia. Insomma Marlisa non vedeva nessuno. Più o meno. In realtà Marlisa qualcuno vedeva. Ossia i ragazzi della sua scuola. ed erano proprio loro il problema di Matthew. Come già vi ho detto Marlisa era una persona ben voluta e stimata da tutti. Quindi ne parlava con chiunque a scuola ma se parlava con un ragazzo o guardava un po' troppo un ragazzo Matthew era già pronta a fare una scenata. Nonostante ciò il fatto di non avere nessuno con cui uscire a Marlisa iniziava a pesare parecchio. Ecco perché adorava Matthew. Con lui passava del tempo. Era un ragazzo simpatico e carismatico che la faceva divertire molto. Quindi lei lo amava davvero da morire. Sarai sostiene che più volte Marlisa le aveva detto apertamente che avrebbe fatto di tutto per continuare a stare con Matthew. Ma non è finita qui perché Sarai dice che sicuramente la loro relazione non andava benissimo. Ma c'era qualcosa che nell'ultimo periodo tormentava terribilmente Marlisa. Un segreto per lei enorme inconfessabile era incinta. Marlisa aveva nascosto questa sua condizione almeno per tre mesi prima del suo delitto. E l'aveva nascosta semplicemente perché non sapeva come affrontare la situazione. i suoi nonni per l'appunto erano estremamente rigidi e religiosi e non avrebbero di certo accolto con gioia la notizia. Marlisa era una liceale di 16 anni e non era sposata. Sapeva che le conseguenze potevano essere drastiche ma soprattutto era disperata per aver deluso i suoi nonni. Questo è ciò che dice Sarai ai detective che continuano ad indagare su questa pista e scoprono che dopo qualche settimana Marlisa era sempre più combattuta all'idea di portare avanti questa gravidanza. ma nelle settimane che precedono il suo omicidio qualcosa cambia. Marlisa non crede sia giusto per lei abortire. Crede che non sarebbe mai riuscita a superare un trauma del genere. Per lei quel bambino è un dono quindi la ragazza prende una decisione. Chiama Matthew il 19 gennaio lo invita a casa sua e poi gli dice la verità. È incinta e non intende abortire. Lei ha già fatto la sua scelta lui deve solo decidere se vuole continuare a starle accanto. Gli investigatori però continuano a non avere nulla che colleghi il delitto di Marlisa a Matthew fino a quando non arrivano i risultati dal laboratorio. Le scarpe che Matthew aveva nascosto dietro la caldaia in soffitta non erano affatto pulite. Le analisi dimostrano che ci sono delle macchie sulle scarpe di Matthew più precisamente sulle stringhe che corrisponde al sangue di Marlisa. Le presunte armi del delitto sia i coltelli e la forchetta vengono analizzate e in effetti vengono trovate una grande quantità di impronte digitali. tutte di Matthew. Questi sono gli elementi di prova più compromettenti che permettono ai detective di incriminare Matthew Wilkins nel mese di gennaio. In pratica per risolvere questo caso le autorità ci hanno messo ben 11 giorni. Ma quindi come sono andate le cose esattamente tra Matthew e Marlisa a quel dannato 19 gennaio? Ebbene Marlisa dice a Matthew che è incinta e quest'ultimo non prende troppo bene la situazione. La sua vita è totalmente rovinata. Se Marlisa tiene il bambino Matthew dovrà dire a dire al basket all'università alle ragazze e a vivere da solo. In pratica dovrà rinunciare a tutto. È così che la gravidanza di Marlisa per Matthew rappresenta la perdita di tutto ciò a cui tiene e quindi sul momento pensa ad un'unica via d'uscita. Corre verso il mobile della cucina afferra dei coltelli e una forchetta e inizia a inseguire Marlisa la ragazza corre riesce a colpirla la ragazza perde del sangue ma continua a scappare cerca di correre via purtroppo una volta uscita dalla cucina al posto di dirigersi verso la porta d'entrata distinto e corsa giù per le scale verso il seminterrato a quel punto non ha più avuto alcuna via d'uscita Marlisa tenta di chiudersi in bagno ma Matthew è più forte apre la porta del bagno e inizia a colpirla quando vede che è a terra e inizia ad usare due coltelli contro di lei contemporaneamente le sbatte la testa contro il water e infine le conficca la forchetta sulla schiena Matthew ha fatto questo anche perché a quanto dice non avrebbe mai sopportato l'idea di deludere i suoi genitori Matthew aveva solo 19 anni e un futuro brillante davanti a sé i suoi genitori non avrebbero sicuramente approvato la situazione e lui non voleva deluderli al processo il procuratore distrettuale presente un elemento di prova che mette in mostra la natura efferata di questo delitto a quanto pare prima di uccidere Marlisa Matthew ha avuto un rapporto con lei questo vuol dire che inizialmente ha fatto finta di essere felice per quella notizia ha pure mentito questo è uno degli aspetti a mio parere più significativi del modo di ragionare di questo ragazzo perché con queste informazioni in più sappiamo che in un momento si comporta in modo del tutto normale e condivide una situazione di grande intimità con questa ragazza un attimo dopo però non ha alcun problema ad afferrare delle armi e a rincorrerla per tutta casa inoltre c'è un'altra cosa che a mio parere rende questo crimine ancora più insopportabile l'autopsia ha stabilito che in realtà Marlisa non era affatto incinta poi si è ipotizzato più avanti che avesse iniziato a soffrire di amenorrea potremmo a questo punto dilungarci ore e ore su quanto sia importante fare educazione intima almeno per sapere a 16 anni le basi della sessualità questo aspetto che è stato un po' tralasciato per Marlisa lo riesco a comprendere da parte dei suoi nonni perché appunto erano molto rigidi quindi non parlavano di queste cose con Marlisa per loro non doveva sentire vedere o pensare a nessun ragazzo quindi penso sia normale che i suoi nonni non le abbiano fatto dei discorsi di tal genere ma se invece ci fosse stata la scuola a dare giusto qualche lezioncina credo sia essenziale non solo far prevenzione dicendo di utilizzare i contraccettivi adeguati ma informare le ragazze che se sono attive a livello intimo farebbero meglio a farsi un girettino dal ginecologo ogni tanto giusto per qualche controllino niente di che un controllino ogni sei mesi direi che si può fare la giuria ovviamente non esita a riconoscere Matthew come colpevole di omicidio anche perché durante il processo non ha avuto una sola reazione è rimasto impassibile per tutto il tempo come se non gliene importasse più di tanto del crimine che aveva commesso detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso lo conoscevate ditemi quello che volete qui sotto nei commenti io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi ma soprattutto continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene insomma prendetevi cura di voi ciao ragazze ciao ragazzi ciao 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 ciao